Ok raga, sono in cantina, lo sto prendendo qui perché in casa sono verrebbe un casino Ecco come si presenta Mettiamo due o tre gocce per orecchio Sarà molto complicato Le abbiamo messe, è stata una faticaccia Ci abbiamo messo circa mezz'ora però è stata brava alla fine Ricompensa un bel po' di biscottini Ecco Felice E dobbiamo farlo però ogni giorno Questa cosa qui, sarà complicatissima devo dire Finalmente l'ho potuta slegare perché se no magari mi scappava Il lavoro l'abbiamo fatto all'interno della cantina Ecco l'orecchio come si presenta Sembra buono il risultato E adesso passo un po' di tempo con lei a accarezzarla perché è stata brava Ok tolgo il flash così meglio, brava Bravo, brava Brava Ma nel mentre eravamo dentro è arrivata una tempesta Quindi siamo dovuti scappare in casa Essendo che lei ha paura del temporale Soprattutto perché ha paura dell'acqua, ecco La carta non è servita Perché Boh, non è servita, lo useremo domani ovviamente Adesso la vado a prendere subito Ah, eccola, felice E già che c'eravamo Poi siamo andati anche a prendere una lumaca al fiume Eccola qua L'ho messo un attimo nella vasca dove si Un attimo si deve ripristinare Diciamo, l'ho presa circa due o tre ore Eccola Non so che non si vede molto bene Adesso andiamo a inserire nell'acquare in casa Vero buvà? Grazie a tutti